Massacri che in passato sono stati negati o minimizzati, e che devono essere ricordati, così il commissario prefettizio Alfonso Terribile ha celebrato, nell'aula magna del comune di Arona la giornata del ricordo in memoria dei martiri delle foibe, alla presenza dei volontari AIB e degli esponenti delle forze dell'ordine. Anche in questi giorni assistiamo a guerre qui vicino a noi in Ucraina come in Israele che sono derivanti dalla mancanza. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.